L'ultimo, vediamo... Oh, dopo l'ultimo... È una... Sincrenza... Probabilità, inserita... Eccomando la barca... Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Cazlin Sì Mucca 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 Moravino Mucca Mucca Extr journalist Tutt Read No, 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 no No, 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 no. Sì! 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 il 3-3 non lo so non c'è il professionale ma non c'è il poter e non c'è non c'è buono Buongiorno Evo naso in plagi Sunce in franza Vodata Pisa spara Quando se torniamo in solo, la storia è la storia Da l'altro Buongiorno. Questo è il giusto, vero. Solo mi è davvero bello vero. Signor Ivan Simic. Buongiorno. Puoi prendere il vostro rischio? Cosa stai ragazzani? Cosa è la buona? Cosa... Quando sono arrivati a vedere il moro... ...lipo... 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 ... 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 Sì, lei sta... ... sul plazzo. È il vostro piede che non è uscita? Non, non... Il mondo è bello, ma non è così. Ci sono molti piedi, che sono molto dolenti. Molte per la piede e per l'acqua in acqua. Sì, sì. Temperatura voda non smeta. Temperatura... Alla prima, è un pocetico. È un pocetico, è un pocetico. Ma l'ascizione è un pocetico... ...è un pocetico. Evo è oggi siamo arrivati... ... al mare... ... non ho un pesciato. ... al mare. Come non ho un pesciato? Mi sono trascinati. Lo sposti. Cosa stai? Un pesciato. Un pesciato. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no è no si vede ovo ovo piste 0 ma nema vezi sledecie javlianje kad stannemo opet znači to će